Il tema della ricerca dello sport è sicuramente un tema assai sentito per noi dirigenti sportivi. Stiamo lavorando sodo appunto perché tutte le componenti che ruotano attorno allo sport capiscano l'importanza di fare ricerca e quindi c'è uno sviluppo in questo senso assai marcato. Nelle scuole sicuramente stiamo entrando con tutti gli sport, con dei piani e offerte formative assai interessanti. Tutti gli sport hanno interesse a entrare nella scuola, ci sono dei progetti portati avanti dal CONI che sviluppano i sani valori dello sport, non solo dal punto di vista tecnico ma proprio dell'educazione. Il progetto Talento è legato appunto al premiare, i giovani che fanno sport e lo fanno con agonismo importante perché comunque tutti gli sport c'è del sano agonismo. Il CONI vuole premiare questi atleti che meritano di avere una vetrina e li premiano proprio sostenendo la loro attività. Speriamo di poter ancora continuare con questo progetto. Il CONI, l'impegno per la ricerca è quello di sviluppare e di formare i dirigenti del futuro perché possano trasmettere alle società e quindi a tutte le loro componenti, agli allenatori, ai dirigenti, agli stessi atleti il miglior modo di comportarsi sui campi, come ho detto prima, non solo dal punto di vista tecnico ma anche educativo e comportamentale. Grazie a tutti.